Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 per incidente, 5 km di coda tra Firenze in Pironeta e in Cisaregello in direzione sud. Sullo stesso tratto, in carreggiata opposta, rallentamenti per curiosi. Per traffico intenso, inoltre, coda in uscita a Firenze sud, provenendo da Bologna, e code tra Calenzano e BV1 variante in direzione di Milano. Qualche problema anche in Fipili, dove troviamo 4 km di coda per lavori tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina nella carreggiata verso Livorno. Segniamo inoltre che sta piovendo su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la cantieristica, ricordiamo che sulla SR70 della Consuma il traffico è interdetta ai mezzi pesanti, per cantieri fino al 16 giugno tra le località Palaie e Consuma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!